1 su 2 per la pisana, 96-93 Segna prima Bragotto Bragotto 2 su 2 Carolo ruba, Carolo segna, 96-93 Presse lo segna Ho i tiri liberi che si giudica un giocatore Carolo, Carolo non va, Carolo Questo è l'eroe decisivo Primo, libero, segna per l'otto Fincione in mostra, sì, terzo posto, 98-93 Sì, Griming